Rientra in quel quadro purtroppo dell'incapacità molto probabilmente dei giovani di capire quello che è il significato di essere umani e di stare insieme ed è quello che vediamo ogni tanto quando ci hanno rotto i vetri dell'ambulanza o gli specchietti creando dei danni economici oltre che di blocco delle macchine. È un appello al buon senso pubblico perché gesti del genere non si ripetano più quello che arriva dalla misericordia di Arezzo. Nel fine settimana è stato infatti vandalizzato il defibrillatore che si trova fuori dall'ingresso della sede di via Garibaldi. È stato infranto il vetro di protezione dello strumento e messa fuori uso all'apparecchiatura al suo interno. Naturalmente la misericordia sta già operando per un suo immediato ripristino. Intanto noi mettiamo il DAI qui dentro la misericordia, ne abbiamo uno così dovesse succedere qualche cosa disponibile ovviamente. Poi io dovrò rimandare lo strumento a ricertificare perché ho provato a vedere sicuramente alcune cose funzionano ma non sono sicuro ovviamente che funzioni bene. Poi devo rimettere la colonnina a norma perché possa essere utilizzata.